Siamo con Andrea Terenzi è una partita davvero molto ben giocata da parte della tua squadra siete andati in finale tutto quello che vi aspettavate e che serviva Sì, noi pensavamo di poter arrivare in finale abbiamo giocato bene possiamo dire che abbiamo quasi avuto sempre la partita in pugno forse il risultato non era così ampio come è uscito però grazie anche al nostro portiere siamo riusciti a fare un 5-2 Diciamo che comunque la vostra disciplina, la vostra capacità tattica rispetto insomma alla spregiudicatezza un po' troppo esagerata da parte della formazione avversaria ha avuto la meglio questo sicuramente la vostra preparazione specifica ha fatto la differenza Sì, noi magari siamo sempre più compatti giocando a calcio a 5 siamo comunque la base che gioca a questo sport e loro sì, come dici tu, erano un po' spregiudicati forse questo è andato a favore nostro quindi per noi va bene, speriamo adesso nella finale Ultima domanda, chi preferisci incontrare se conosci tutte le tue squadre? Sono due belle squadre, penso che comunque chiunque vinca sarà una bella partita quindi che vinca il migliore dai Siamo con Cacciotti, migliore in campo di quest'ultima semifinale che ha visto appunto la sua squadra vincere i calci di rigore una battaglia, una maratona infinita tu però sei stato determinante proprio nell'ultimo tiro dal dischetto eri disperato perché avevi deviato tutti i palloni però alla fine ce l'hai fatta? Diciamo che siamo arrivati ai rigori per colpa mia perché potevo fare di più sono contento e mi sono riscattato proprio sull'ultimo rigore come detto, l'avevo presi tutti però non sono uscito dalla botta decisiva alla fine la torre dei due golli che mi ha fatto mi ha fatto questo regalo, mi ha fatto parare questo rigore adesso proviamo la finale A questo punto diciamo quante probabilità vi date contro la Top Dancing? L'avete vista già giocare in precedenza? Insomma sarà una sfida durissima Sono tutti i miei ex compagni della Dina Calcio a 5 diciamo che partiamo 50-50 noi questa vittoria di cori ci dà la giusta carica poi è sempre calcio, ci sono sempre questi 60 minuti e daremo tutto